La partita questa semiziale Abbiamo una fase di studio iniziale Le quattro ottenette del belusto in testa Che stanno controllando la gara La partita questa semiziale 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 La partita 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 semiziale Questa è la semifinale. Ammunizione per il numero 192 alla collegiata di Ampigliani. Ammunizione numero 51, Callegari Lucia, Fatina Giugale di Cugine. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 numero 9, viene eliminata la numero 106, Filippi Francesca, della pubblica sportiva Caluschese Campanile di meno 8, prossimo passaggio è eliminazione Ammonizione per il numero 51, Gallegale Lucia e Fatia Pinero Eliminazione per il numero 5, 8, 5, Boris Fahra, Rotelli Sticazzo Campanile di meno 6, Campanile di meno 6 3 atleti potranno eliminare in questa semplimale numero 547, Miajia Aurolanca che è il club per chiese, viene eliminato in questo giro. Capale di nero 4, ancora 2 eliminazioni. Ediminazione del numero 192, paragone di gelada della Piedtani. Capana di nero 2, al passaggio di salina, poi avremo il punto di eliminazione al nero 2. E contemporaneamente la campana per l'ultimo giro. L'ultima eliminazione è la numero 582. Pantì gioia per il gruppo rosso. E' un'ottima strida. Appenari. Grazie. Grazie. Grazie.